Inizialmente avevate detto che per ogni albero che saremo costretti a potare ne pianteremo due. Volevo chiedere se prosegue questo programma. Sicuramente questo è stato un impegno che io e l'amministrazione ci siamo presi. Ovviamente tutto ricade sempre sul fattore economico e mi auguro di andare oltre i due alberi per ogni albero piantato perché effettivamente ne abbiamo bisogno. L'ultimo evento meteorologico che abbiamo avuto è già solo tagliare 40 alberi nel campo sportivo di Borghietto Santo Spirito. Quindi siamo già in pari. Sicuramente nei prossimi anni cercheremo di mantenere questa promessa e se è possibile andare anche oltre.